FIT4Lady è la prima palestra woman friendly, palestra femminile, abbiamo rivoluzionato il concetto di palestra verso le donne, creando un offrendo dei servizi che possano facilitare la vita e la quotidianità di una donna che deve conciliare il lavoro, la famiglia, l'essere mamma, l'essere donna, una serie di quelli che sono i servizi è quello di poter portare bambini e figli anche fin appena appartoriti, quindi i papi neonati, poter venersi ad allenare perché ci sono tutta una serie di servizi dedicati sia ai bambini che alla mamma e alla donna, come lo spazio bimbi, una zona fasciatoio, la zona adattamento, il poter portare anche i panni da stirare, c'è una ragazza che stirra, il pipuce, intanto che la mamma si allena, quindi il concetto è quello di poter finalmente offrire la possibilità alle mamme di dedicare tempo a se stesse, alla propria salute e avere anche la possibilità di un ritrovo per condividere le proprie esperienze o semplicemente l'essere donna.